Cari amici, buonasera e grazie per chi mi ha ascoltato. La mia candidatura nella lista con Antimo Lavornia è nata dalla volontà di dare un contributo per creare a San Lorenzello un clima di serenità. Ho pensato che con il mio carattere riservato, discreto e spettoso di tutti, posso fare qualcosa per San Lorenzello. Nella mia vita ho sempre lavorato ed ho avuto rispetto ai miei datori di lavoro, che saluto e ringrazio. Con grossi sacrifici sto costruendo una casa per mia figlia e volendo darle qualcosa in più, voglio, con il mio impegno administrativo, farla vivere anche in una comunità in armonia. Sarà a mio impegno costruire un clima sociale, sereno, collaborativo, sicuramente migliore di oggi. Cari amici, credetemi, credeteci perché sicuramente non vi deluderemo. Votate la lista numero 3, viva i laurentini, viva Salonezzello.